hey yo what's good everyone bella raga oggi andiamo a reagire a plug in con gue pequeno non so che cosa sia sembra che sia quelle session tipo la red bull 64 bars roba simile non idea con fums di engineer mixtape madness senza perdere tempo mi aggiuntano le reccomandazioni è gue pequeno quindi andiamo a spaccarci dai it's f28 baby acqua stavolta è una collaborazione internazionale ammazza oh ci sono pure i sottotitoli mamma mia gue gue non ti fermi più london senti g u e tu dimmi chi vuole ancora fota con questo mega god flow sul cell mille killer con il tom ford man sono con salvo e con mauro tu non ti salvi no amaro ci sono ci sono con gue no ovviamente lo sono io mille killer con il tom ford man sono con salvo e con mauro tu non ti salvi no amaro scemo morirai prima di san re mmmm extra sistola e fare stoviglia con un apple watch sulla caviglia a fottermi fottermi why you wanna da tempo che lei vuole fottere mi fa il filo di arianna ah ah perché ci amiamo in strada come i cani al polso fase i lunari 8 miliardi al mondo e troppi scarsi in giro meglio se adesso qualcuno prende va a fare in culo come un negozio gangsta dove sta il tuo drip se una volta finito il clip riporti tutto in boutique ti ho visto dentro i video sei poesissimo ma nei commenti è solo oddio ti amo sei bellissimo plug in per davvero G De Niro con De Vito la tua mafia in affitto e il tifo come in Qatar è finto sto con Alfredo e Nicola altri figli di una pistola re come a Camelot in bordelli più sale slot non voglio un tuo pif mangio sempre coberry buy bello il nuovo disco ancora però poi lo studio rifai mamma mia mamma mia oh mio dio oh mio dio no no raga la risentiamo eh la risentiamo che state scherzando si risente non me ne fotte nulla la copierai mamma mia tu non sei iron tu tiri troppo fra tu sei Mike Dyson se fossi tuo padre ti darei una sperla ma tra poco uscirò l'album si lo farà madre perla ok cos'è madre perla? si è engineer mamma mia mamma mia perché era così co... ha composto il beat bassi mamma mia bassi maestro porca puttana dai riascoltiamoci la raga non mi frega niente il copyright forza è F28 baby dio mio che bomba ah 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 bust this non l'avevo sentito all'inizio me l'era passata me l'era passata oltre me l'era passata oltre la testa london senti ah è tipo una domanda quella roba tu dimmi chi vuole ancora fotte con questo mega god flow sul ciel mille killer con Tom Ford man sono con salvo e con Mauro tu non ti salvino amaro scemo morirai prima di Sanremo caricatore pieno extra sistole fa le stoviglie con un apple cosa vuol dire extra sistole? watch la caviglia fottermi fottermi why you wanna è da tempo che lei vuole fottere mi fa il filo di arianna wow un bianco e nero sta purani perché ci amiamo in strada come i cani al polso fasi lunari 8 miliardi al mondo e troppi scarsi in giro meglio se adesso qualcuno prendeva a fare in culo compro tutto il negozio gangsta dove sta il tuo drip se una volta finito il clip riporti tutto in boutique ti ho posto del tuo video sei pesissimo ma nei commenti è solo Dio ti amo sei bellissimo plug in per davvero G De Niro con De Vito la tua mafia in affitto e il tifo come in Qatar è finto sto con Alfredo e Nicola altri figli di una pistola re come a camelot in bordelli più sale e snot non voglio il tuo beef mangio sempre coberry by bello il nuovo disco ora però torni in studio e rifai bella bella non voglio il tuo beef mangio solo coberry by la carne che costa tanto beh oddio ri by non costa così tanto no? ho mangiato pure io il ristorante non c'ho un soldo però coberry non so se posso permettervelo non credo tutta la night ride o la city tu troppo light sei soft in la tuta night sa voce il mio copyright come banti mosso in danger zone i rapper chiedono pietà siccome michelangelo sanno che sanno che sanno che ho la mafia in house come fosse stivangelo guarda sto in studio mamma mia mamma mia Dio mio che bomba raga che bomba Dio santo Dio santo ma ce ne sono altri ce ne sono altri raga magari qualche altro artista italiano che ha partecipato a questo progetto so che il web è probabilmente il più rinomato internazionalmente no? non ho idea sinceramente magari ci sta qualcun altro mi è piaciuto un sacco eh soprattutto qualche puttana una roba di londra che hanno fatto e hanno lasciato produrre il beat a bassi maestro pensate quanto hype mamma mia grande io ci sono cresciuto raga se io mi sono innamorato del rap quando ero adolescente è grazie a bassi maestro mamma mia mamma mia mi ha fatto innamorare dell'hip hop che grande che grande e nulla dai spero che vi sia piaciuto questo video se sapete altri video a cui posso fare una reaction per favore scrivetemelo nei commenti e lo farò al più presto vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima bella